Alle prime luci dell'alba dello scorso 8 ottobri la maxiblitz antidroga dei carabinieri di Arezzo che aveva portato all'arresto di otto richiedenti asilo nigeriani tra San Lorentino, Indicatore e le ville di Monterchi. Ad un mese e mezzo di distanza la procura ha inviato l'avviso di chiusura indagini a 13 persone coinvolte nell'operazione denominata Nigerian Connection. Le successive indagini dei carabinieri hanno infatti permesso di formalizzare le accuse anche nei confronti di altre 5 persone. Tra loro anche un giovane italiano, un assuntore accusato di favoreggiamento, avrebbe infatti avvisato i pusher del fatto che i militari gli stavano addosso. Ovviamente ci sono posizioni diverse, infatti alcuni sono in carcere, altri sono stati solamente denunciati, perché? Perché quelli denunciati semplicemente hanno il quinto coma già contestato, cioè la fattispecie di avere che non consente custodia cautelare in carcere. Gli altri invece hanno contestato il primo coma, che è un perato particolarmente grave, è una pena editale da 8-20 anni e quindi consente ovviamente la custodia cautelare in carcere. 4.000 le cessioni documentate nel corso delle indagini dai militari del nucleo investigativo di Arezzo. I nigeriani spacciavano soprattutto eroine e cocaina tra i clienti giovani, studenti ma anche professionisti di mezza età. Voi state valutando dei riti alternativi, quali e perché? Perché? Perché l'avviso di questo difensore si tratta di una legge fatta bene con riscontri e quindi si tratta di una situazione che impone un rito premiale, che possa essere poi il patteggiamento per il raccordo con la procura oppure un abbreviato, questo lo vedremo nei prossimi giorni. Si può discutere sul titolo di reato ma non si può discutere sulla sussistenza di determinati episodi.